Saresti stata un'orfana in un mare in tempesta Il matrimonio è un porto sicuro Ama, onora e obbedisci Amen Devo fare un ritratto E tutti diranno, ma guarda che vecchio fortunato Aveva una moglie giovane bellissima Che cosa guardate? Che cosa guardo? Non siete felice, vero? Quel pittore non deve tornare Dirò a vostro marito quello che fate Come dite? Primo a fiorire, primo a cadere Vieni via con me È un progetto assurdo Ho pensato a come fare Credete davvero di riuscirci? Noi saremo insieme Il signor Prater dice che vi date da fare E non parliamo di pittura Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week E di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Per ogni notizia sul cinema Sulle serie TV Per il gossip dell'ultima ora E le recensioni delle ultime uscite Non perdetevi il nostro blog Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi Anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV Sono gratuite Ciao!